Mi amore, ma sei tutta sporta? No, stai però... Ne? T'ag stated una con de un.. smesso di tremare almeno quello quindi lei non la misuriamo volendo si può fare questa fine possiamo provare aspetta stiamo facendo delle imprese fa anche un premo piano quando è finito così passo è ora a cominciarti secondo me la si muove sì anche secondo me però proviamo prima o piano l'hai fatto di viso posso passare? passa passa piccola guarda un po' la resta non spiegare la fastidio di flash sta chiudendo gli occhi sta rilassando si stava rilassando proviamo sempre di qua no è un po' le orecchie si no le alzate grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti